E' la snob a tutti i familiari e i familiari, benvenuti in questo nuovo video, sto registrando? Ah si, oggi è il 14 dicembre e domani sarà il compleanno di mio padre Comunque, come state queste cose? Quanto le odio? Questo? E' la snob a tutti i familiari e i familiari, benvenuti in questo nuovo vlogmas, oggi è il 14 dicembre, domani è il 15 dicembre E sarà il compleanno di mio papà Io non l'ho fatto niente, che pizza Volevo fargli qualcosa, ma oggi, considerando la mia stanchezza, non ho potuto fare nulla Se non... Ah che casino Se non riposarmi oggi, anche perchè ieri ho festeggiato veramente fino a mezzanotte Cos'è? Cos'è? E niente, adesso continuiamo la scheda libero La scheda libero che già ho iniziato Mi sento sposatissimo E' in modo Fa per occhio Ok, si è aperto Sicuramente Beh, allora 4se Dove ci sono tutte le mie cartelle Italiano Italiano Oh no! Oddio, ho sbagliato Vabbè In realtà Devo andare sui documenti E niente Ok Dai, stop qui Perchè Così almeno Ci aggiorniamo più tardi Vediamo se sta registrando Comunque ragazzi Sono stanchissima Sono le 8.32 Ragazzi Appena ho concluso la scheda libera Che devo consegnare domani Domani è il cumple di mio padre Io non vedo l'ora Oddio, quant'è? Perchè non va? Perchè non mi parla? Ma questa cosa è l'efficiente? Scusate Allora Mamma mia Mamma mia Quante notifiche Aiuto Comunque ragazzi Sono qui Sono stanchissima E niente Vado a mangiare adesso Ragazzi Sono le 21.32 Ho finito di mangiare E niente Allora Siccome domani È il cumple di mio padre Non vedo l'ora Perchè Volevo fargli un audio messaggio Ovviamente sempre Anzi Dedicando Una Una song Molto Particular No che basta Particular A parte ciò Io devo salvare una cosa sul computer Dalla memoria esterna Ascoltate Folder OneDrive C'è tutto il mondo Fuori e dietro Di me Vivere Come Amore Impossibile Stanno Mastendo All'interno Dove è finito? Che Come Vediamo cos'è Questo lo dovrei portare Questa è una canzone di Natale Che ho registrato con qualcuno In generale Sentite? Che ho registrato con qualcuno Je l'ai bella e comunque ho registrato un'altra cover con una mia amica che appunto si chiama Jessica e niente adoro non ci credo non ci credo quindi adoro questa cosa per ciglio show 2021 è stata questa quindi niente a proposito di lavori domessici raga appena ho lavato i piatti dovrei mettere dovrei mettere la crema annulla come annulla ok e niente scusate per le mie capolate ma dovevo salvare le cose comunque adesso vado che allora ragazzi io sono al telefono con la mia dolce dolce comunque non riesco più a salvare i video su tik tok una cosa bruttissima perchè volevo salvare il video saluto di quella tik tok io sto per morire veramente ogni volta che ci penso sta cosa adoro a diorio ui che devi sfondare la porta io mi pensavo che mi fai il riavviso prima che apro la porta a diorio a diorio a diorio ragazzi allora scusatemi ma la mia voce è praticamente andata comunque vi spiego un po' perchè la sera arrivo veramente a non avere più voce e scusate se non mi inquadro perchè davvero sto ci sono in condizione pessima poi farmi vedere un pigiama dopo un po' mi stufa non so comunque sono appena stata al telefono con la mia dolce che è un grandissimo bacio poi ho scoperto che col microfono delle cuffie magari quando parlo a bassa voce si sente un po' di più però appunto niente il vlogmas lo intitolerò sicuramente le mie cavolate vlogmas 14 e madonna ieri è stato il mio compleanno non ci posso credere già 19 anni ragazzi cosa eppure le mie mani sembrano ancora da 15 anni tipo da una ragazza di 15 anni non per vantarmi però me lo sento e quindi niente comunque spero che questo vlogmas comunque vi sia piaciuto lo stesso e grazie per tutto e ci vediamo in un prossimo vlogmas faccio questo rumore con microfono ciao 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 ciao